Buon sabato 5 settembre, continuando sulla riflessione relativa la parola, la cura, al silenzio e all'ascolto, questa mattina provo a sperimentarmi nella lettura, che non mi viene facile ad alta voce per le mie difficoltà di vedere in maniera chiara e precisa, quindi portate pazienza, se leggendo magari farò qualche errore, avrò qualche tentennamento, ma le parole che andrò a leggere, che andrò a dire, cercano di essere le più autentiche possibili, quindi non guardate tanto alla forma di questa riflessione, ma cercate di esplorare l'essenza e la sostanza di una domanda che pongo a me stesso e a ciascuno di noi, per cercare di far sì che la parola non sia più banalizzata come accade nelle parole raffica dei talk show, nella retorica insignificante della politica che ha rinunciato a dare credibilità alla parola. Ciò che conta è la semplice forma, la carriera politica si gioca sulla capacità di mitragliare, parole molto spesso inanellate senza senso, ma evocative di un'essenza che viene taciuta, che è un desiderio di dominio assoluto, agito da personalità terribilmente narcisistiche e orientate al dominio sul prossimo. Lo so che questo non sarà un oggetto di campagna elettorale, ma diffidate di chi sembra credibile perché è abile solo nella retorica. Andate all'essenza delle parole che dice, del loro significato e soprattutto usate un indicatore che coloro i quali parlano troppo, dicono troppe parole, sono le persone sicuramente più pericolose. Andate a vedere la retorica dei dittatori, la loro modulazione, sempre alla ricerca dell'applauso, e dietro tutto questo nascondono cose terribili. Io penso alla insensatezza del razzismo, l'insensatezza della rifiuto dell'altro. Eppure tutto questo diventa oggetto attraverso il quale si costruisce un consenso che in realtà non è fatto di un popolo razzista, oppressivo e rifiutante, ma di un popolo che si è fatto trascinare attraverso la mitragliatrice delle parole verso un burrone che rappresenta il declino dell'umanità. Recuperiamo dunque la forza delle parole. Ascoltiamo, facciamo dell'ascoltare più che dell'udire la nostra perseverante attenzione critica nei confronti di ciò che accade e facciamo dell'ascoltare un luogo di meditazione e di trascendenza. Volevo leggere alcune righe del testo di Calvino Palomar, nel quale viene rappresentata una sequenza, abilmente descritta, tra due merli. Ma ascoltate cosa dice Calvino. Il fischio dei merli ha questo di speciale. È identico un fischio umano di qualcuno che non sia particolarmente abile a fischiare, ma che si trovi ad avere un buon motivo per fischiare, una volta tanto e per una volta sola, senza intenzione di comunicare, e lo faccia con un tono deciso, ma modesto e affabile, tale da assicurarsi la benevolenza di chi ascolta. Già in questo primo passaggio di Calvino, nel paragone tra i fischi dei merli è il fischio di una persona la quale non ha intenzioni comunicative, ma semplicemente di dare voce a un agire che lo porta a essersi deciso, ma attenti, modesto e affabile. per costruire una relazione di benevolenza con il prossimo è un atto comunicativo che non ha come scopo la comunicazione, ma segnare il passo, definire il contesto di significato. Quando parliamo spesso ci viene detto, siate chiari, ma io credo che dobbiamo semplicemente essere decisi, pur dovendoci destreggiare con qualcosa che non è mai chiaro del tutto, perché la parola non può essere esaustiva della realtà, la può costruire ma non può essere esaustiva, ma ne parleremo nei prossimi giorni di questo aspetto particolare della parola. E il fischio dei merli, il fischio dell'essere umano non particolarmente abile a fischiare, quindi non ha neanche la capacità, per esempio, di far risuonare il fischio come una sorta di musica, è quello di porsi in una condizione di benevolenza nei confronti dell'altro. È l'atto preliminare, il fondamento del far sì che la parola esca, forse anche un fischio, non è una parola un fischio, ma è un suono, è un'azione, anche la parola è un'azione. Continua Calvino. Dopo un po' il fischio è ripetuto, dallo stesso merlo o dal suo coniuge, i merli sono due, ma sempre come fosse la prima volta che gli viene in mente di fischiare. Anche qui, pensate ai bambini quando incominciano a destreggiarsi con la parola. Non potremo mai esplorare fino in fondo la coscienza di ciò che ascolta il neonato. Tutto intorno a sé sente dei suoni, potrebbero essere naturalmente dei suoni dolci, aggressivi, è chiaro che nella stragrande maggioranza dei casi è dolce. È la prima volta che si affaccia al mondo e sente un suono. Questa è la caratteristica che ci riporta Calvino. A ripetersi del fischio riavviene la novità assoluta della prima volta. Quanta banalità c'è in molte nostre parole. Mi hai stancato, dici sempre le stesse cose. Sei ripetitivo, sei ridondante. Non riesco più a sentirti, perché le parole che dici non hanno alcun elemento di novità, ma il nostro vocabolario è inevitabilmente limitato. E dunque non è nella parola la novità, ma è nell'atto della parola, nel dire, che noi dobbiamo porci sia in termini di ascolto sia in termini di produzione della parola come se fosse la prima volta. Cioè dobbiamo trattare ciò che diciamo e ciò che ascoltiamo con delicatezza, col senso della curiosità e della scoperta. Se è un dialogo, ogni battuta arriva dopo una lunga riflessione. Bellissimo questo, questo invito a valorizzare il dialogo, a definire il dialogo, che è una sequenza di battute dopo lunga riflessione. Esattamente l'opposto di ciò che accade in un talk show. Non ci sono pause di riflessione, c'è sovrapposizione. Ma questa modalità comunicativa è diventata l'essenza del nostro parlare insieme. Ci sovrapponiamo. Se cade un silenzio tra una battuta e l'altra, temiamo che si sia creato un clima depressivo, angosciante. Invece in quello spazio tra una battuta e l'altra, nella quale sa essere la riflessione e la meditazione, che trova senso il parlare stesso. Al di fuori di questo, da dove non c'è spazio per la riflessione e la meditazione, io ritengo che le parole siano azioni fonetiche senza alcun senso. E ciò che conta è la implicita sovrapposizione e prevaricazione. Sul piano educativo credo che i talk show politici dovrebbero essere aboliti, non per legge naturalmente, ma per senso di civiltà, per rispetto della democrazia, per la necessità di coltivare un modo di essere nel mondo in un dialogo che coltiva con piacere l'estetica del silenzio e spazio di meditazione e trascendenza tra una battuta e l'altra. Non temete il silenzio che può esserci in un incontro del club, abbiamo un rispetto sacro, perché non è che nel silenzio non accade nulla, non facciamoci angosciare dal silenzio, perché se noi diamo vita a quel silenzio le persone trovano uno spazio settimanale di meditazione e trascendenza, come ci aveva indicato il professor Ludolin, che sollecitava questi due aspetti, che abbiamo ampiamente trascurato. Anche in un incontro di psicoterapia, che è un incontro d'amore, è fondamentale il silenzio, è un luogo di apprendimento del valore del silenzio, entro il quale la sofferenza portata diventa un seme che fa germogliare e ritrovare il valore della riflessione e della meditazione. Una psicoterapia aveva ragione Freud a porsi il problema se sia terminabile o interminabile e orientarsi implicitamente alla interminabilità di una psicoterapia, perché è una condizione che riguarda l'amore, non può avere fine, può trasformarsi, può creare delle condizioni anche di conflitto, ma non avrà mai fine, perché è l'essenza della nostra vita. E allora la psicoterapia, che è scambio di parole, di battute, ma soprattutto di ascolto, non è una questione tecnica, è una questione antropologica ed esistenziale. Non rigettiamo la psicoterapia dicendo ma questa è una forma di professionalizzazione della sofferenza. Certo, se fosse questo, una tecnica di professionalizzazione della sofferenza, sarebbe una forma di riduzionismo, ma questo non deve essere. Se è veramente una cura dell'anima, deve essere il luogo nel quale la parola viene scandita attraverso la pausa, il silenzio, che non è una esplorazione curiosa dell'altro, ma è la possibilità di far nascere domande che generano nuovi contesti, nuovi mondi nei quali la nostra presenza può assumere un significato foriero di ribellione, di libertà, di gioia, anche laddove tutto sembra terribilmente intricato, perché evidentemente non abbiamo saputo trovare le giuste pause tra le battute che intercorrono tra i parlanti. Ma è un dialogo? Oppure ogni merlo fischia per sé e non per l'altro? Anche questo è un aspetto, una domanda che Calvino ci pone. La nostra parola è un dialogo o semplicemente diciamo qualcosa di noi, non qualcosa che riguarda l'altro anche quando interroghiamo l'altro. E naturalmente non è una contraddizione questa. Nel dialogo non cessiamo di essere ciò che siamo, soggetti unici, irripetibili, autonomi, però fischianti, cioè destinati a essere relazione e inesplorabili al di fuori della relazione, quella concreta della vita di tutti i giorni, non quella costituita in luoghi artificiosi che in qualche maniera cercano di porre la persona come un oggetto esplorabile. No, noi siamo soggetti autonomi in dialogo, in dialogo come essenza della nostra stessa vita e della nostra stessa libertà. La nostra libertà è appunto, come abbiamo ricordato molto spesso, è nel legame. E in un caso o nell'altro si tratta di domande e risposte all'altro o a se stesso. Allora, che sia dialogo o non sia dialogo non è altro che una sequenza di domande e risposte. All'altro o a se stesso? Io direi all'altro e a se stesso. Domande e risposte in uno spazio di condivisione. Anche qui l'esperienza del club è fondamentale. Vado per me insieme agli altri per porre domande a me stesso e agli altri. Legittimamente cercando delle risposte, ma semplicemente alla fine. Accettiamolo. Per sviluppare delle domande ulteriori, per metterci nella condizione della crescita e della maturazione. O di confermare qualcosa che è sempre la stessa cosa? La propria presenza? L'appartenenza alla specie? Al sesso? Al territorio? Cioè è una domanda questa, eh? Ve la riformulo. E in un caso o nell'altro? Si tratta di domande e risposte a se stesso o all'altro? O di confermare qualcosa che è sempre la stessa cosa? La propria presenza? L'appartenenza la specie al sesso? Al territorio? Forse il valore di quell'unica parola sta nell'essere ripetuta da un altro becco fischiante, nel non essere dimenticata durante l'intervallo di silenzio. Anche questo è un passaggio fondamentale. E ve lo ripeto, non solo per la mia inabilità nella lettura, ma semplicemente perché la lettura va ripetuta. E si pone un dubbio, Calvino, che è una domanda. Forse il valore di quell'unica parola, di quell'unico fischio, prendiamo l'unicità e la originalità di ogni parola che noi diciamo, sta nell'essere ripetuta da un altro becco fischiante. Quella parola è comprensibile, è udibile, se può essere ripetuta anche dall'altro, conosciuta. Questo richiede un grande impegno. e il valore della parola è quello di non essere dimenticata durante l'intervallo di silenzio. Dunque la parola, che si tratti di dialogo o di qualcos'altro, rimane sempre una domanda, una ricerca di risposta, ma il suo valore nasce proprio dalla possibilità che anche l'altro possa ripeterla, in uno spazio nel quale si memorizza, si fissa nella coscienza. È per questo che la parola deve essere costantemente alimentata dal silenzio. Buona giornata a tutti.